Ehi là, mi hai chiamato? Eccomi qui, pronto per rispondere a te su qualche domanda con l'energia cinetica. Di che cosa stiamo parlando? Ne daremo inizialmente una definizione, come si calcola attraverso la formula, ma poi due domande in più ce le dobbiamo fare, amico mio. Che cos'è? Da dove viene fuori? Beh, non c'è risposta migliore che di una bella dimostrazione fatta insieme del teorema dell'energia cinetica. Io sono carichissimo, e tu? Ciao e bentornato! Sì, sono sempre io, Super Matt, il tuo supereroe scientifico preferito, pronto qui alla velocità della luce per darti una mano con l'energia cinetica. Che facciamo? Andiamo? Vai! Allora, di solito l'energia cinetica noi le indichiamo con la lettera K, come al solito un po' dall'inglese kinetics, e quindi la cinetica, l'energia appunto del movimento, l'energia di un oggetto che è in movimento. Infatti, andiamo subito a scoprire la formula. Un mezzo, m, v alla seconda. Che vuol dire? E qui c'è il primo grande concetto. La massa non può mai essere zero, tecnicamente all'interno del mondo della fisica classica, e quindi l'unico momento in cui l'energia cinetica è zero è se, e solamente se, la velocità è uguale a zero. Quindi, un corpo che si muove ad una certa velocità v presenta energia cinetica, un corpo che è fermo non presenta energia cinetica. Mi sembra abbastanza facile, che potremmo riassumerlo all'interno di K uguale a zero, se, e solamente se, v è uguale a zero. Direi concetto importantissimo, ma altrettanto banale. Ok? Ma allora la domanda è, ok Matteo, ma che cos'è questa energia cinetica? Beh, è una innanzitutto delle tante forme di energia che mi si presenta nel mondo, energia eolica, energia solare, energia elettrica, insomma, quante più ne vuoi, più metti ne dentro, ma questa noi stiamo parlando nell'ambito dell'energia meccanica, quindi energia del movimento, e questa è l'energia cinetica, ovvero il lavoro per portare un certo corpo di massa m alla velocità desiderata v partendo da fermo. Sì, ti aggiungo anche questo pezzettino che potrebbe essere importante da ricordare. partendo da fermo. Quindi vuol dire che ha una velocità iniziale pari a zero e poi successivamente voglio arrivare ad una certa velocità v e mettermi in movimento. Questo quando è possibile? È possibile se faccio un determinato lavoro. Ma quindi, aspetta Matteo, mi stai dicendo che l'energia in realtà non è altro che un lavoro? Ma certo che sì, perché un sistema fisico che possiede energia è in grado di compiere un lavoro. Un sistema fisico che non possiede energia non è in grado di compiere un lavoro. Ma questo vedrai tra qualche secondo, ti sarà ancora un po' più chiaro. Intanto, un'ultima accortezza. Quindi, energia, lavoro, mi stai dicendo che sono più o meno la stessa cosa? Quindi, sì, esatto, anche la stessa unità di misura. L'energia cinetica mi si misura in joule. Ricordati che quando ti utilizzo le parentesi quadrate stiamo parlando di analisi dimensionale, quindi dell'unità di misura. Mi raccomando, joule, j. Ok? Esattamente la stessa unità di misura del lavoro. Ora però c'è una domanda. Ok, ho capito la definizione, ho capito più o meno la formula, ho capito dove viene fuori. Sì, tutto chiaro, ma Matteo, questa roba l'hai inventata tu? Ma la risposta è ovviamente no. Non potrei essere così big genius. Io al massimo ti posso aiutare a comprendere. A comprendere cosa? La dimostrazione del teorema dell'energia cinetica. Che ci permette di capire effettivamente perché c'è bisogno di fare un certo lavoro e qual è questo lavoro che scopriremo per portare il mio oggetto da fermo ad una certa velocità v. Eccomi qui. Terminiamo insieme questa lezione con la parte più importante. Mi raccomando, rimani incollato fino alla fine, anche se ti sembrerà un po' più difficile, perché poi alla fine sarà tutto un po' più chiaro. Io ti dico sempre di lasciare un commento qui sotto se vedi qualche difficoltà di troppo e poi arrivo da te alla velocità della luce. Ok? Partiamo. Allora, io qui che cosa ho? Ho una situazione dove devo calcolare il lavoro che è necessario fare per spostare questa massa con una certa forza e voglio portarla da una certa velocità iniziale ad una certa velocità finale. Ok? Ci siamo fino a qui? Perfetto. A questo punto io cosa conosco? Conosco solo la massa, la velocità iniziale e la velocità finale. Tutto il resto ce lo dobbiamo ricavare io e te insieme. Vai. Allora, lavoro uguale forza per spostamento. Cosa? Non ti ricordi bene la definizione? Ma fai un salto alla precedente lezione sempre con me e vedrai che non ci saranno più problemi. 5-10 minuti, metti a posto i mattoncini e poi torni alla grande più forte di prima. Allora, dicevo però, forza per spostamento è un prodotto scalare, ma qui θ è uguale a 0 perché l'oggetto va da questa parte, la forza va da questa parte, vettori paralleli e quindi di conseguenza θ è uguale a 0 gradi. Ma, quindi di conseguenza il coseno di θ qui, se vuoi io te lo posso anche scrivere, ma il coseno di θ mi fa 1 e moltiplicare per 1 sostanzialmente non è necessario ed è il motivo per cui preferirei evitarlo. Poi successivamente il problema qual è? Che io non ho né la forza né nello spostamento. Yuppie per noi! E quindi un po' di lavoro da fare. Allora, innanzitutto il primo grande problema è qui. Che tipo di moto sta facendo il mio oggetto? Moto rettilineo uniformemente accelerato. E deve passare da una velocità iniziale a una velocità finale. Attenzione, può essere sia una decelerazione che un'accelerazione non mi interessa, ma sicuramente è un moto rettilineo uniformemente accelerato. E quindi? E quindi partiamo e ce lo facciamo sostanzialmente da soli. Io prendo in considerazione le leggi orarie, dove le mie incognite quali sono? Io non conosco due cose. È vero che me ne serve una sola, lo spostamento, ma io non ho a disposizione neanche il tempo, ok? Neanche il tempo, neanche il tempo. Invece per quanto riguarda l'accelerazione, facciamo finta che sia tutto a posto per il momento, perché ce la ricaveremo poi in un secondo momento. Non ti preoccupare. Adesso andiamo a lavorare quindi qui dentro. Io potrei ricavare il tempo da qui. Questa lo posso considerare come una velocità finale, all'istante finale. Questa, diciamo, la chiamiamo V0, V1 è uguale, ma magari qui abbiamo usato V1, quindi procediamo con V1, mi raccomanda la nomenclatura. E poi successivamente, quindi io posso scriverti che il tempo finale è uguale esattamente alla velocità finale, meno la velocità iniziale, fratto l'accelerazione. Formula inversa, spero che tu non abbia troppi problemi con questo, però in teoria non dovrebbe essere difficile. Questo, dove ce lo andiamo a mettere? Ma ce lo andiamo a mettere qua dentro, in maniera tale da recuperarci questo spostamento, che è il primo grande elemento che ci manca. Allora, S uguale a che cosa? VI per T, quindi per V finale, meno V iniziale, fratto l'accelerazione. E poi, più un mezzo, A per T al quadrato, A è A. Per T al quadrato vuol dire tutto questo, velocità finale, meno velocità iniziale, fratto l'accelerazione, tutto al quadrato. Eh sì, caro amico, dobbiamo avere un po' di pazienza, ma vedrai che non te ne pentirai. Successivamente, andiamo quindi a fare velocità iniziale per velocità finale, questo per questo, meno velocità iniziale al quadrato, tutto fratto l'accelerazione. Qui, attenzione ai passaggi, allora, più un mezzo, A per il momento te lo lascio così, qui sotto diventa A al quadrato, qui sopra dobbiamo andare a fare il quadrato di un binomio. Quindi sarà una velocità finale al quadrato, più una velocità iniziale al quadrato, meno il doppio prodotto, quindi meno due volte la velocità finale e la velocità iniziale. Ok? Ci siamo? Tutto chiaro? Ti ricordo che stiamo facendo tutto questo ambaradam per recuperare questo spostamento qui. Adesso continuiamo la nostra magica avventura insieme e, in teoria, questa A se ne va con questa A. Questo 2 te lo sposto qui sotto, così andiamo a fare il minimo comune multiplo. Piccola magia da veri supereroi e, tac, diventa 2A. Ovviamente la scrittura è la stessa, non cambia nulla, fai attenzione ai calcoli algebrici e fatteli sempre nella maniera che ritieni più semplice per te. Successivamente, quindi, andiamo con questo benedetto minimo comune multiplo. Qui abbiamo detto che è 2A. 2A diviso A fa 2, quindi due volte la velocità iniziale per la velocità finale, meno due volte la velocità iniziale al quadrato. Questo rimane uguale più velocità finale al quadrato, più la velocità iniziale al quadrato, meno due volte la velocità finale per la velocità iniziale. Questa relazione che stiamo andando a cercare in realtà non è fondamentale solo per dimostrare il teorema dell'energia cinetica, ma è un po' fondamentale comunque in tutta la cinematica. Perché se ci fai caso, stiamo andando a togliere il tempo e creare una relazione tra lo spostamento, l'accelerazione e la velocità. Ma veniamo a noi e, colore alla mano, vediamo gli elementi che si possono cancellare. Questo sicuramente va a farsi una passeggiata insieme a questo. Questo qui, in teoria si somma con questo qui, e poi direi basta. Quindi questo vuol dire che abbiamo uguale velocità finale al quadrato, meno velocità iniziale al quadrato, fratto due volte l'accelerazione. Quindi abbiamo scoperto che questo spostamento che serve a noi, nel moto rettilineo uniformemente accelerato, che fa il nostro corpo, è dato da v finale al quadrato, meno v iniziale al quadrato, tutto fratto due volte l'accelerazione. Bam! Che ne pensi? Ok, ora lo dobbiamo inserire lì dentro. Faccio un po' di pulizia da brava cenerentola e tornerò subito da te. Ok, come ti dicevo prima, ecco qui la tua fantastica relazione, la stessa di prima, solo che te l'ho trasportata sopra, così avremo un po' più di spazio per continuare la nostra tremenda dimostrazione insieme. e questa secondo me te la devi segnare al di là della dimostrazione del teorema dell'energia cinetica, come dicevo in precedenza. Ti può sempre tornare utile. Vai! Allora, successivamente la inseriamo qua dentro, ma non va bene neanche la forza, io non conosco neanche la forza, eppure conosco qualcosa che mi descrive la forza. Secondo principio della dinamica. Perché? Perché la forza, o meglio la risultante delle forze, è uguale alla massa per l'accelerazione, ma devi fare molta attenzione. In questo caso la forza è solo questa, quindi coincide con la risultante. In generale ricordati che non è così. Questa cosa di F uguale a M per A è fighissima, ma ricordati che è la risultante delle forze. In questo caso noi lo possiamo fare senza troppi problemi ci viene davvero comodo, perché è massa per accelerazione che va a moltiplicare lo spostamento che abbiamo ricavato prima, questa roba qui, e quindi di conseguenza sarà V finale al quadrato, meno V iniziale al quadrato, fratto due volte l'accelerazione. L'accelerazione sparisce e io adesso ho tutto in funzione dei miei fantastici dati che volevo all'inizio. Riscritta decentemente, cos'è questa roba? E perché ci sono arrivato? E perché è collegata all'energia cinetica di prima? Ma perché riscritta meglio si può vedere come un mezzo M che moltiplica V finale al quadrato meno V iniziale al quadrato, che riscritta ancora meglio è uguale a un mezzo M V finale al quadrato meno un mezzo M V iniziale al quadrato. Lo so, hai aspettato tanto ed è stata dura, ma guarda qui che cosa ti presento. Ti sto presentando che questa è esattamente l'energia cinetica che abbiamo visto all'inizio della lezione e quindi questa è l'energia cinetica finale meno l'energia cinetica iniziale. Esatto, ti ho dimostrato che il lavoro per portare un certo corpo da una certa velocità iniziale ad una certa velocità finale coincide esattamente con la variazione dell'energia cinetica. Cioè, questo è quello che dice il teorema dell'energia cinetica. W, lavoro, è uguale alla variazione di energia cinetica. Mettilo in rosso, coloralo bellissimo perché questo è un risultato fondamentale che spiega anche da dove viene fuori quella bellissima formula di un mezzo M V al quadrato. Se io metto la velocità iniziale uguale a zero come ti avevo detto prima nella definizione fondamentale, rimane solo questo che è esattamente il lavoro che devo fare per portare un corpo da fermo ad una certa velocità finale desiderata. Lo so, è stata più difficile delle altre volte ma io spero che tu sia riuscito a seguire fino alla fine e che abbia trovato le risposte che cercavi. Se è così, allora sostieni il canale, iscriviti e metti un bel like. Ma fai suonare anche quella campanellina così da non perderti tutte le prossime puntate insieme. Io ovviamente ti aspetto anche sui miei canali social, la pagina Facebook e il canale Instagram. In particolar modo però ti aspetto qui sul tubo. Ciao amico mio! Ciao amico mio! Ciao amico! Ciao amico! Grazie a tutti.